Daniele Lisi, credo un po' di emozione quando è arrivata la telefonata dell'Olimpia agnonese perché è ufficiale che tu parti per il ritiro con la squadra Granata che ha notato le tue qualità quindi un passaggio dal vinchiaturo alla Serie D all'Agnone Sì, a fine mese dovrei andare a fare il ritiro ad Agnone e speriamo bene che succeda Usi il condizionale, ma allora non hai avuto la telefonata? Sì, l'ho avuto la telefonata come no e speriamo bene che vada bene e che riesco a giocare in un campionato dilettante come la Serie D Un salto di qualità, che idea ti sei potuto fare dei fatti che sono successi ad Agnone in questi giorni? Il cambio di allenatore da Urbano che ormai era un abitué di Agnone al Donatelli Il mister dell'Agnone si è andato ad allenare la primavera del Bari Adesso vediamo un po' il nuovo allenatore come sarà, speriamo bene Bene Ecco, in un certo senso aspettavi una telefonata che ti facesse fare il salto di categoria perché tu sei un ragazzo che ha qualità e di cui si dice un gran bene quindi era nell'area che potessi aspirare a qualcosa di più importante dell'eccellenza o della promozione? Vabbè sì, ho avuto parecchie telefonate di molte squadre di promozione eccellenza quindi non butto via questa occasione per la Serie D e vediamo come andrà Ma tu che caratteristiche essenziali hai? Va bene, posso fare quasi tutti i ruoli, almeno il terzino, il centrocampo centrale, esterno Quindi sei molto d'utile Sì, sì E soprattutto dalla tua c'è il fatto che sei un under, cioè sei un classe 95 Sì, sono ancora un under fino all'anno prossimo Come hai preso questa notizia? Insomma, la primissima reazione appena hai saputo di dover partire per il ritiro con l'Agnone? Vabbè sì, è stata una buona emozione, una bella emozione andare lì perché sembra una categoria superiore a promozione eccellenza, quindi sono molto contento C'è la prospettiva che tu ti possa legare contrattualmente all'Agnone oppure è solo una prova? No, 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 c'è la possibilità, al fine ritiro sarò io a scegliere se firmare o no E allora un grosso in bocca al lupo per una tua crescita personale Grazie Grazie